buongiorno oggi per gusto verdi siamo nell'orto di maria fidone questi che cosa sono maria come si chiamano in dialetto dialetto ciurietti ma in realtà spieghiamo cosa sono sono dei sono dei broccoli verso dicembre cominciano a spuntare i primi con quel bel colore viola qua ecco qua già ne vediamo uno molti sono stati già raccolti e con questi broccoli si fa una minestra assolutamente particolare tradizionale qua a frigintini che cos'è come si fa a passate a passate da sostanzialmente si fa una pasta sì con che cosa basta io l'ho basta con le uova quante uova un chilo di farina in cinque uova si fa un impasto e poi cosa si fa con questa pasta come si ottiene come si manipola e poi viene bastata bella dura e poi io tutta la pizzico faccio i pezzettini si pizzica e vengono fuori questi pezzettini di pasta intanto abbiamo preso il nostro broccolo l'abbiamo raccolto dall'orto e poi cosa facciamo col broccolo lo togliamo a pezzettini e si cuoce nell'acqua acqua con un po di sale bollente quando si butta la pasta si scola non tanto insomma un po brudosa e allora ecco sarà maria sta arrivando sua nuora vero e con questa ricordiamo questa minestra eccola qua come si chiama ricordiamolo a stradella a passatella passatella e alla fine cosa ci va l'olio sì allora lo posso mettere certo lo deve mettere maria l'olio qua di frigintini magnifico a denominazione di nostra produzione ecco qua con la muletura di mio figlio magnifico tutto fatto in casa in casa tutto nostro qua